Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come fare la pizza fritta. Intanto ci vuole lievito madre e un'ottima qualità di farina. In una terdina mettiamo mezzo chilo di farina, 150 grammi di lievito madre, 30 grammi di olio buono, oliva ovviamente, 4 grammi di malto e 350 grammi di acqua. Impastiamo il tutto, aggiungiamo 10 grammi di sale fino, impastiamo di nuovo e facciamo riposare per 24 ore. Olio sul fuoco, apriamo intanto una burrata, guardate che crema. Cuciniamo il pomodoro, quindi tiriamo la pasta e la friggiamo in olio bollente. Intanto che aspetto mi bevo una bella birretta fresca. Una volta cotta le scoliamo e le mettiamo su un piatto, ci mettiamo sopra la passata di pomodoro, la burrata, 2 foglie di basilico fresco e una bella macinata di pepe fresco. Sì o no ragazzi, guardate che robetta, che bontà! Se vi è piaciuto il video mettete un like, ciao!